Il centro sportivo Condora, venetico, realizzato dal comune e gestito dalla Parda e Stim, è diventato un punto di riferimento per gli sportivi del territorio. Ricavato su una superficie di 2800 metri quadri, dove una volta sorgeva una fabbrica di laterizia, è voluto fortemente dal sindaco Francesco Rizzo, autore nei suoi 22 anni di mandato di diverse opere, atta a migliorare la vita dei cittadini. Certamente questa struttura, anche la dimostrazione, questa struttura era una vecchia fabbrica, l'ho trasformato in 28.000 metri quadrati e tante aree, l'ho urbanizzato, che c'è un campetto di caccia a sette, c'è una grande sala di 2800 metri quadrati, che si pratica tanti tipi di sport. All'interno del centro sportivo, oltre ai vari servizi come spogliatoi, bar, segreterie e sala convegne, è stata ricavata una grande sala da ballo, due campi da padel e una pista per automodellismo, dove si organizzano varie competizioni anche a livello europeo. Nello spazio esterno è stato ricavato un campo di calcio a cinque, da qualche settimana in una struttura che precede il centro sportivo e sono trasferiti gli uffici al palazzo comunale, che domina una piazza pronta ad ospitare intere famiglie ed eventuali eventi.